amore si è arrabbiata? si è arrabbiata? amore si è arrabbiata? oh Matteo? io no Lisa si è arrabbiata? si è arrabbiata? aspetta controlla se Alice è arrabbiata? no oh Lu ma lì si è arrabbiata? muore? bacino? non mi dà bacino? mi sa di sì dammi una manina dai una carezza dai una carezza bravo